...di andare in pressione su Troiano, una sorta di uno contro uno a centrocampo e poi invece in fase di possesso a Traikoski di giocare sulla stessa linea di Moreo. Dunque un piccolo cambio tattico in avanti per provare a togliere riferimenti all'Ascoli. Si sta anche assottigliando qui, occhio all'autogol clamoroso da parte di Peruchini. Cos'ha combinato il portiere dell'Ascoli? Incredibile, prima il dribbling su Moreo e si è buttato il pallone in porta, incredibile quello che è successo alla Barbera. Vanno tutti subito a rialzare Pippo Peruchini, in stagione aveva già commesso un mezzo errore contro il Perugia. Ne aveva avuto, è davvero clamoroso qui l'errore di Peruchini che nel tentativo di riportare il pallone sul sinistro se la spinge in porta. Questo è l'atteggiamento di Vivarini, si dispera, chiaramente Pippo Peruchini. Vivarini non l'ha presa bene, tra poco ci racconta Tutone, fa chiari, cenni al suo portiere. Prova probabilmente anche a tranquillizzarlo, ma non può aver preso bene questa giocata, un infortunio clamoroso. Grazie per la visione!